Salve a tutti, con questo nuovo video andiamo ad introdurre una serie di tutorials rivolti a scoprire quello che è il software matematica. Matematica è un ambiente di calcolo simbolico e numerico che può essere anche utilizzato come un vero e proprio linguaggio di programmazione. Ci soffermeremo sull'analisi del software matematica della Wolfram relativamente all'edizione numero 8, la versione 8. Per prima cosa andiamo a creare un nuovo foglio di lavoro, cliccando su Notebook andiamo ad effettuare le operazioni. Possiamo partire dalle più semplici, ad esempio una somma tra 2 più 3. Per ottenere il risultato è sufficiente premere Shift e contemporaneamente Enter e abbiamo in Output il nostro risultato. Un altro esempio può essere una moltiplicazione insieme ad una somma e anche qui risultato è 17. Possiamo richiamare l'ultimo Output semplicemente andando a richiamare il tasto Cancelletto e vedete che quindi al posto del Cancelletto va a sostituire l'ultimo Output che è 17 sommato al valore 2 restituisce 19. Procediamo con l'analizzare sempre la divisione. 3 diviso 4 ci restituisce Matematica in Output 3 quarti. Questo perché nel momento in cui il risultato è un numero razionale, Matematica lo scrive come una frazione esatta. Per conoscere quello che è il valore approssimato siamo obbligati ad richiamare il comando N, ripetere il valore 3 quarti e a questo punto vediamo che il software ci restituisce l'Output che è 0.75. Attraverso il comando N che è una funzione appunto di Matematica possiamo andare anche a stabilire quello che è il numero di cifre significative desiderate nel risultato. Ad esempio mettiamo 5 cifre significative attraverso l'utilizzo della seguente sintassi e come vedete effettua la divisione 10 diviso 3 con un numero di cifre pari a 5. La sintassi è quindi passare all'interno delle parentesi quadre l'operazione che vogliamo effettuare, mettere una virgola e inserire il numero di cifre significative necessarie. Andiamo a vedere a questo punto funzioni più complesse. Ad esempio vogliamo conoscere quello che è il risultato della equazione di secondo grado x quadro meno 5x più 6 uguale 0. Per conoscere il risultato di questa espressione la sintassi è la seguente. Si utilizza la funzione solve, come vedete tutte le funzioni built in, cioè costruite già predisposte all'interno di Matematica, presentano una lettera maiuscola, si utilizzano due uguali, mettiamo la virgola e andiamo a definire quella che è la variabile secondo la quale deve essere appunto risolta la nostra equazione. Premiamo shift enter e il risultato è quindi che le soluzioni sono x uguale 2 ed x uguale 3. Per quanto riguarda le disequazioni invece richiamiamo la funzione reduce, ad esempio imponiamo che x quadro meno 1 sia maggiore di 0, la nostra variabile è x, shift enter e questa disequazione risulta essere risolta, quindi la soluzione è x minore di meno 1 ed x maggiore di 1. Comando reduce relativamente alle disequazioni. Passiamo ora invece a definire una funzione arbitraria. La sintassi per definire una funzione è la seguente. Richiamiamo quindi, chiamo una funzione f, la nostra variabile è x, utilizziamo l'underscore per la definizione della funzione, due punti uguali, ipotizziamo a definire una funzione del tipo seno di x, il seno è una funzione già built in all'interno di Matematica, diviso x. E la funzione quindi è così definita, come vedete non abbiamo un output, poiché a questo punto è unicamente una definizione. Vogliamo ad esempio andare a valutare il limite di questa funzione f di x nel momento in cui la nostra x tende a 0. Il limite è 1. Un'altra operazione molto importante è la derivata. Per effettuare una derivata di una funzione è sufficiente utilizzare il comando d, passare come primo input la funzione da derivare, ad esempio ipotizziamo il seno di x, e la variabile secondo cui derivare x. Derivata del seno è il coseno e infatti in output troviamo immediatamente il coseno. Se invece si va a specificare all'interno della derivata, ad esempio un prodotto di funzioni, ipotizziamo h di x per c di x, non avendo definito né h né c, quello che restituisce Matematica è la formula derivazione per prodotto di funzioni. Altra alternativa per effettuare la derivata è andare in palette, richiamare il basic math assistant e a questo punto ad esempio andiamo in advance, il simbolo di derivata è il seguente e quindi immediatamente ci permette di inserire qui la funzione, ad esempio coseno di x e da quest'altra parte la variabile, quindi ci insegna anche a capire quali comandi andare a richiamare all'interno del nostro software Matematica. Andiamo a questo punto a realizzare la derivata seconda della funzione f di x che abbiamo definito prima come sen x su x. Per effettuare la derivata seconda possiamo pensare di andare a effettuare la derivata della derivata prima e quindi derivata della derivata prima ovvero f di x, la variabile secondo cui derivare x. Questa è la nostra funzione da derivare sempre rispetto alla variabile x. Premendo shift enter il risultato è il seguente, questa è la derivata seconda della nostra funzione f di x. Alternativa invece è quella di andare a richiamare sempre l'operatore derivata, passarci come funzione sempre la nostra f di x, specifichiamo che vogliamo la derivata seconda con la seguente sintassi, parentesi graffa derivata rispetto a x di ordine 2. Il risultato, come ci aspettavamo, è lo stesso. Dopo l'operazione di derivata andiamo ad analizzare l'operazione di integrale che viene definita in matematica attraverso la funzione integrate. Similmente a quanto fatto per la derivata passiamo alla funzione da integrare ad esempio x quadro nella variabile x, integrale indefinito il cui risultato è x al cubo terzi. Altra alternativa è sfruttare quelle che sono le palette e andiamo a richiamare appunto il nostro simbolo di integrale. Qui andiamo a porre x quadro la variabile in cui derivare è x. Risultato logicamente lo stesso. L'integrale tuttavia può essere anche definito tra un estremo superiore e uno estremo inferiore. Immaginiamo di avere l'integrale x quadro in dx tra 3 ed 1. Il risultato è il seguente, 26 terzi. Da un punto di vista di sintassi invece, questo può essere scritto come integrate x al quadrato, la nostra funzione integranda, la variabile di integrazione. Dobbiamo inserire gli estremi di integrazione, quindi apriamo parentesi graffa, variabile secondo cui integrare, estremo inferiore, estremo superiore. Il software matematica è molto facile da usare perché appunto è già predisposto di innumerevoli funzioni built in di uso comune. Ad esempio tra le più frequenti, come vedete qui riportando in tabella, c'è la funzione radice quadrata, esponenziale, logaritmo, sia in base naturale sia in una generica a base B, le funzioni trigonometriche e così via. Per qualunque informazione relativamente all'utilizzo di quelle funzioni potete consultare facilmente la guida LEL. Termina qui questo primo tutorial relativamente a matematica, dove abbiamo visto quindi come andare a effettuare semplici operazioni come addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni, a risolvere equazioni e disequazioni, limiti e ad implementare calcoli relativamente a derivate e ad integrali, operazioni semplici. Nel prossimo tutorial andremo inoltre ad analizzare differenti operazioni che possono essere effettuate sulle liste e anche sulle matrici. grazie per l'attenzione e per qualunque domanda o altra curiosità non esitate a lasciare un commento oppure ad inviare un messaggio email. Grazie a tutti!